Il caro prezzi sulle materie prime rischia di congelare il settore dell'edilizia e lo stop potrebbe riguardare anche la ricostruzione. Si è parlato pure di questo ieri a Montereale, in provincia dell'Aquila, comune danneggiato da entrambi i recenti terremoti, quello del 2009, tra una settimana ricorrerà l'anniversario, e quello del 2016. Un tavolo a cui hanno partecipato il commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia, Giovanni Lennini, il presidente della giunta regionale Marco Marsilio, i direttori dei due uffici speciali della ricostruzione per il 2009 e per il 2016, rispettivamente Raffaello Fico e Vincenzo Rivera, nonché 12 sindaci di comuni del doppio cratere tra l'Aquilano e il Terramano. Dovrebbe essere un'ordinanza di Lennini a calmirare il problema rincari nelle aree terremotate. Il commissario ha annunciato di essere al lavoro su un testo che potrebbe firmare entro la fine di aprile, per il quale sarebbe già in contatto con l'Istat. Ed è ciò che ieri hanno chiesto i primi cittadini. Lo stop alla ricostruzione, sia pubblica che privata, potrebbe vanificare gli sforzi fatti finora per rispettare le scadenze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Stesso allarme lanciato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili, che ha chiesto misure urgenti per evitare il default. Ci sono tutte le premesse per un immobilismo totale del comparto, fanno sapere dal Lance. Nell'ultimo periodo, infatti, si è registrata un'escalation in controllata dei prezzi, che ha origine prima dell'introduzione del superbonus, la misura che prevede detrazioni fiscali che presto saranno ridotte ovunque, tranne che nelle aree terremotate. Dai tubi in gomma ai ponteggi, fino al trasporto, i costi sono aumentati immediatamente del 40%, caso emblematico quello del bitume, la miscela con cui si produce l'asfalto, il cui prezzo è aumentato nel giro di un anno di circa il 75%. E il prezziario cambia di giorno in giorno. L'ordinanza di Legnini potrebbe essere non più al passo coi tempi, già nel momento in cui sarà firmata questa la perplessità dei costruttori. E i costi potrebbero continuare a salire anche a causa dei rincari dovuti alla guerra in Ucraina. Se prima l'incidenza del costo del gas per la produzione di una tonnellata di asfalto era mediamente di 2-3 euro, ora è schizzata a 12-13 euro.